I come Irlanda e come si conveniva la mia generazione a un certo punto presi una nave e partì, partì per Rosler e scesi in Irlanda. Un freddo, un freddo, tiravo un vento dal nord e io venivo dall'isola d'Elba e giravo con la lacostina. La mia mamma mi aveva detto portati una giacchetta, io testone, era agosto, faceva caldo, vado in Irlanda, lacostina. Ma vi immaginate, un ghiaccio e per fortuna fui raccolto subito da un irlandese che capendo che ero un giovane imprudente italiano, mi dette lui la sua giacchettina. Ne aveva due, me ne dette una e si cominciò ad andare per questo paese magnifico insieme. Ovviamente si finì in un bed and breakfast dove c'era una donna che ci accolse in maniera straordinaria e poi lui mi disse, no no ma stasera si va a cena fuori. E si andò dove? In un pub irlandese. Che esperienza! Freccette che volevano di qua, freccette che volavano di là, gente che infrangeva i propri buccali di Guinness, nemmeno si fosse stati a Monaco di Baviera. Un gradasso, un chiasso, una felicità pazzesca! E poi cominciarono a apparire formaggi, uova tuffate, non so nemmeno in che cosa. Insomma, immergetevi fuori da ogni sentiero in Irlanda. Perché poi, se troverete un bed and breakfast come ho trovato io, la mattina questa donnona irlandese mi ha fatto la colazione più buona della mia vita. E poi pancetta fritta, e poi pancetta fritta, e poi pancetta fritta, e poi uova frittellate, e poi uova frittellate, e poi pancetta fritta. E a un certo punto, dopo questi bei bricchi di caffè e di tè, era anche Lenny. Il dubbio mi disse, ma che vuoi ancora un becchierino di Guinness? Ah, adoro l'Irlanda! Ciao!